La primavera potrebbe portare buone notizie per i risparmiatori di banche Trudia scottati dal decreto salva banche. Potrebbe infatti salire fino a 280 milioni il platform del Fondo di Solidarietà per gli indennizi dei risparmiatori dei quattro istituti di credito salvati il 22 novembre scorso. L'orientamento del governo sarebbe infatti quello di procedere per decreto per ampliare il più possibile la platea dei rimborsati, rendendo superflui gli arbitrati disposti in manovre e quindi il decreto ministeriale, il decreto del Presidente del Consiglio e dei Ministri che avrebbero dovuto stabilirne i criteri. La cifra esatta però non sarebbe ancora stata decisa. In attesa del via libera di Bruxelles non ancora arrivato, il governo sarebbe infatti ancora indeciso sulla tempistica, sulla possibilità cioè di procedere prima o dopo l'UK dell'Unione Europea. Arriva comunque il plauso delle associazioni di consumatori, Adusbef e Feder Consumatori. Grazie.